ciao a tutti sono la copp sono venuto a prendere della carne come potete vedere adesso ve lo faccio vedere carne si riesce a leggere si riesce a leggere origine francia italia macellata in italia però francia italia e carne francese interessante e io mangio carne francese siamo in italia e mangio carne francese macellata entrare in italia però in carne gli animali francesi visto che qualche giorno fa c'è stato uno che ha messo su da parte della lidl cosa simile però tedesca carne tedesca macellata in germania la vendono in italia con un nome italiano qui la coppa fa la stessa cosa però la prende dalla francia mi sembra un bello schifo che non si riesce a fare la spesa neanche nei nostri supermercati e mangiare carne pura razza italiana bella roba ciao